La casa natale di Totò nel cuore di Rione Sanità a Napoli sarà restaurata dopo anni di attese, bagarre e polemiche. Tornerà decoro e dignità per l'appartamento in via Santa Maria Antesecola, che conserva ancora le vestigia di quando mamma Anna e nonna Teresa si affacciavano dalla finestra. Una meta di pellegrinaggio per milioni di appassionati cultori del principe Antonio De Curtis, gioia a Rione Sanità per dei lavori attesi da troppi anni in un luogo che troppo spesso, oltre anniversari e ricorrenze, veniva dimenticato. Totò merita questa ristrutturazione e speriamo che finalmente viene tanta gente a visitarci. Una lapide ricorda che al Civico 109 nacque uno dei più grandi geni del cinema e del teatro, un monumento nazionale che venne comprato all'asta dopo 11 battute andate a vuoto dalla signora Amelia Canoro. Appena questo della ditta sta bene noi iniziamo i lavori, perché questo è il nostro sogno, di fare i lavori e di mettere questa casa per il pubblico. E la signora Canoro, da degna proprietaria di Casa Totò, saluta l'avvio dei lavori con parole inversi. E Totò mi strano, mi camano, mi portano, mi diceva è là che devi andare. Per tutta la sanità si chiude a me e si l'ha fatta troppo morta, certamente per l'eternità, ma no perché questa vita è capace e se ne va.